Ecco direttrice, le prossime iniziative, sta arrivando la stagione estiva, arriverà anche un importante flusso di turisti, voi come gestirete il Parco archeologico di Locri e il museo, il polo museale? Ma diciamo che noi ogni anno penso che vi abbiamo ormai abituato a una grande vivacità all'interno del nostro parco archeologico, anzi ci sarà la notte dei musei e il nostro museo sarà aperto in notturna, quindi con un'apertura straordinaria dalle 20 alle 23. Quest'estate come di consueto e lo presenteremo nelle prossime settimane abbiamo un programma ricco e diversificato, ci teniamo soprattutto a questo, una serie di eventi che vanno dai seminari alle visite guidate, agli incontri scientifici ma anche i concerti, la riapertura del nostro teatro e quindi un programma certamente ricco e diversificato per la comunità e anche per i turisti che visiteranno l'area per tutta l'estate. La novità in termini di accoglienza cosa ci sarà? Cosa avete pensato? Ma intanto la vera novità del parco sono gli aspetti legati all'accessibilità, noi proprio in questo momento abbiamo un cantiere in corso che si concluderà nelle prossime settimane che restituirà al parco archeologico una sorta di piazza. Dietro il museo stiamo allestendo un'area che sarà dedicata in maniera particolare agli eventi estivi e quindi un luogo più accogliente e più attrezzato proprio per l'attività di valorizzazione.